La scuola incontra le istituzioni. Questa mattina due classi dell'Istituto Mazzini hanno visitato Sara Carfì, l'aula consigliare del Comune di Vittoria. Una bella iniziativa promossa dalla scuola e tesa ad avvicinare i ragazzi al mondo della politica e delle istituzioni locali. Questa è la fase pratica dello stage di osservazione che noi ogni anno organizziamo nell'indirizzo Scienze Sociali per le classi del triennio ed è obbligatorio. Quest'anno abbiamo scelto il tema rapporto fra giovani e politica per indagare sul grado di fiducia, di partecipazione, sull'atteggiamento dei giovani nei confronti della politica. I ragazzi sono stati ricevuti dal presidente del Consiglio, Salvatore Di Falco, e dai capigruppo consigliari. Oggi accogliamo con piacere le classi quinte e quarte del liceo Mazzini perché questo incontro è informativo e formativo allo stesso tempo con le istituzioni. È un momento interessante e spero sia produttivo per i giovani stessi perché vengono a conoscere come funziona il Consiglio Comunale, quali sono le istituzioni ed è un modo come scambiare queste informazioni. Spero che i giovani diano anche dei giudizi sul lavoro che svolge la politica all'interno del Consiglio Comunale e credo che sia produttivo per loro ma anche per le istituzioni stesse. Non è la prima volta che organizziamo questi incontri tra le istituzioni e i giovani della città perché confidiamo molto in loro, sono loro i protagonisti della vita cittadina, saranno un domani i dirigenti della città di Vittoria. Vedete, i ragazzi per esempio dovrebbero partecipare di più alla vita, le consulte per esempio, le consulte dei giovani sono fondamentali, però purtroppo queste consulte non funzionano, per cui se il ragazzo ti propone una cosa e poi tu non la realizzi, alla fine non ci crede più.